ciao a tutti ragazzi ben tornati al canale di Johnnyotto stiamo provando FIFA 21 in anteprima ragazzi ci proviamo subito una bella partita in stagioni online e vediamo un po cosa è cambiato questa è una bella partita in stagione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo subito Arturi, il nuovo acquisto della Juventus. E' il loro debutto assoluto in questa divisione e all'ingresso in campo i volti dei giocatori tradivano tutta l'emozione del momento, Pier. Si facciano per la prima volta su un palco scenico tanto grande per quanto a loro sconosciuto. E ha il pallone del possibile vantaggio. E' un'altra parte su un gran gol. Possono giustamente esultare per questo gol, frutto dell'ottimo pressing. Qua ci vede l'idea di Baramasco. Hanno saputo rispondere subito con un gol a quello degli avversari. Non si sono persi Dani, vincendo subito sull'acceleratore. Siamo di nuovo in parità. Grazie al gol dell'1-1. Riconquisto è il pallone. Un minuto di pallone che c'era. Vinaldum. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Siamo in fine all'area. Vinaldum. Sala. Roberto Firmino. Va profondo Firmino. Firmino. Murato da l'intervento del difensore. Errore di Salacchi. Siamo in contropiede ragazzi. Parte d'Agras. No, ma che non c'è. Attuale qui il difensore nel recupero. Norma del vantaggio. Può attaccare il Liverpool. Errore di Fabinho qui. Vai Fiorio. Attenzione a che può andare uno contro uno col portiere. E ci è. E non poteva mancare il gol di CR7. Quando c'è da buttarla dentro. Lui risponde sempre presente. L'areplay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. La conclusione di CR7 si è poi infilata sul primo palo. Quello in teoria è copiato dal portiere. Tutti rompono la manovra del Liverpool. Attenzione a CR7. Ci riprova. La recuperatezza dall'attacco. Attenzione. Controlla male Fabinho. C'è la regola del vantaggio. Dunque si va avanti. Giusta decisione. Attenzione a Dybala qui. Dybala. 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 Serve Cristiano Ronaldo. Non si passa con Van Dijk. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Mané. Chi quadrato. Anderson. C'è l'avanzata nel giocatore del Liverpool. Ronaldo. Vediamo che si deve fare subito un altro ragazzi. Palla recuperata dal Liverpool. Il nostro avversario quinta subito. Non si è fatto provare. Se ne può andare adesso. Grande uscita a valanga. Coraggiosa nel portiere. Eh sì. Se l'hai trovato addosso. Prima di poter tirare. Dybala. Liverpool che recupera il pallone. Salah. Interessante la verticalizzazione qui. Occhio a Mané. Ma che gol ha fatto? Questo è un bel rinno. Non ci ha pensato due volte. Ha fulminato alla grande il portiere. Mané ci ha fulgurato. Si è avvengato sul cross come un vero e proprio rapace. Ha battuto al volo il portiere. Provando un gol di pregevole fattura. 3 a 2. Partita molto spettacolare. Intervento tempestivo. Interrompe l'azione di Cristiano Ronaldo. Morata. Conciano la fascia. Douglas Costa. Svenda qui la giancia. Non va. Ascenza c'è. Occhio al cross. Riconquista palla con l'intervento giudicato regolare. Anderson. Palla molto interessante. Palla con il gioco pericolo. Li porta via bene il pallone. Andiamo ragazzi. Che ci si fa. Fa un altro gioco in me. Anderson. Intercettano bene il pallone. Wijnaldum. Ecco Fabinho. La cita su Anderson. Firmino. Palla che se fosse passato avrebbe creato problemi davvero seri alla difesa. Molto bene qui il difensore. Cristiano. Bella roba ragazzi. C'è campo per lui. Grande intervento del difensore in area. Peccato. Grande errore. Occhio all'avanzata di Salah. La mette dentro Salah. Sì. Vieni Salah. Sicuro. L'intervento del portiere che blocca il pallone. Salah è sa qua. Andiamo. Douglas Costa. Arbitro che ferma il gioco. Si chiude il primo tempo. 3 a 2. Ok andiamo agli spogliatori sul 3 a 2 ragazzi. Per noi. Penso che l'averò morata perché non mi vuole garbare per niente. Proviamo con il culo. Il grande Kulusevski. Liverpool costretto a rincorrere in questa ripresa che è appena cominciata. Vagrass. Dai Vagrass. Qualcuno di più te di farà. Bravi qui. A bloccare tutto. Buono Shesny. Ottima qualità nel possesso fin qui. Qualcuno. Qualcuno. E' veramente insuperabile in questi interventi difensivi. Da profondo Firmino. Però da piazzare. Il grande Shesny. Palla rubata in una zona pericolosa. Siamo nello stretto qua. Prestano tantissimi. Riceve Salah. Riconquista il pallone con un buon tackle. Ci è le parti? Stefano ti chiedo una parola. C'è la batteria per andare. Attenzione al cucchiaio. Qui l'attaccante poteva giocarsela meglio direi. Ha provato la soluzione direi elegante con il tocco sotto. La coppia malissimo spedendola in orbita. Sarà calcio di posizione per il Liverpool. Alexander Arnold. Gran palla qui per il compagno. Può far male da lì. Muratolo al difensore. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Buon intervento difensivo. Il pallone è in mezzo. Il pallone è in difficoltà qui. Attenzione. Il pallone è in mezzo. 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 Provano con il pressing. Un blocco di palla. Recupera il pallone Fabinho. Cristiano Ronaldo ha spazio davanti a 6 occhio alla Pamagol deve solo piazzarlo facile per lui grazie Mascara con qui grazie ha approfittato della dormita collettiva della difesa aveva tutta la porta spalancata è praticamente impossibile sbagliare da lì risultato adesso sul 4 a 2 insomma dunque l'azione d'attacco ha provato a darla a scudi una volta di bala Roberto Firmino il Liverpool regala il pallone agli avversari quadrato ottimo ragazzo sale quadrato Douglas conclusione di Nessa da carcellare in prenda ma probabilmente una coltività con la fronte piena ne è uscita una traiettoria sbilenca qui vai che l'abbiamo presa occhio al pallone filtrante servito bene di Bana palla deviata sarà a corner poco che piace apprendere la CR occhio al pallone in mezzo 5-2, chiudiamo qua la nostra partita il replay ci mostra nuovamente il corner calciato da Dybala dal quale è nato il gol Cristiano Ronaldo, è lui, sempre lui, è piombato come un falco su questo pallone indirizzandolo di testa alle spalle del portiere Vinaldum c'è l'avanzata del giocatore del Liverpool Occhio a Firmino, grande occasione buttata via qui, era solo davanti al portiere ha sbagliato da ottima posizione, è più facile segnare che sbagliare da lì siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora Arthur abbiamo sbagliato ragazzi ma per fortuna fischio dell'arbitro e punizione dunque contro il Liverpool ecco il cartellino giallo per Van Dijk Arthur ha provato la prova da fuori tira il respitto sempre CL, vediamo un po' se lo prende crossa nel mezzo ha provato la girata di testa conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere ci ha provato andrà meglio la prossima volta buon possesso di palla Vinaldum Sadio Manet vediamo che dice l'arbitro, ha interrotto un'azione pericolosa c'è il cartellino per Bonucci, giallo, giallo per lui vedremo se proverà a calciare direttamente in porta abbiamo appena visto come non si calcia ma cos'era non è calcio di punizione si cos'era conclusione da dimenticare traiettoria che non ha creato alcun problema al portiere intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla Vinaldum Firmino, tutto solo super intervento di scesi la mette in mezzo ci mette i pugni e allontana pallone per Van Dijk un'entrata decisa e efficace possono ripartire in contropiere a CL che parte si in velocità a CL non è riuscito a sfruttare questa occasione ma deve essere una buona opportunità giocata in qualità per intercettare il pallone se ne può andare adesso ferma l'attaccante e sventa il pericolo ancora tre minuti da giocare Roberto Firmino buona la lettura di Bonucci e niente ragazzi il nostro avversario si disconnette e finisce qua il nostro match finisce qua il nostro match poi le prossime volte potremo provare anche volta football andiamo un po' come come continua l'avventura del calcetto di FIFA 21 possiamo giocare qualche match di Champions e perché no passare anche ad Ultimate Team o farci una bella carriera quindi spero che vi sia piaciuto questo gioco in anteprima ragazzi non ha grandissime differenze tra l'anno scorso ovviamente come tutti gli anni ha le cose aggiornate qualche piccola robita qualche migliorina dei movimenti dei calciatori e le solite cosette che ogni anno cambiano nel nuovo gioco di FIFA quindi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al mio canale mettete mi piace seguitemi sulle facce di social e noi ci vediamo nella prossima modalità di FIFA che sarà volta football ciao ragazzi grazie